A norma dell'articolo 59,3,4 del regolamento interno e con l'obiettivo che l'accordo provvisorio raggiunto con il Consiglio tenga conto della volontà dei cittadini europei di eliminare una sostanza pericolosissima come il mercurio dalle otturazioni dentali, chiedo a nome del gruppo effettivo... Ma vaffanculo... Cos'è strano... Yeah, you know? Tenga conto della volontà dei cittadini...